Promo Firenze ha messo in piedi un servizio sulla contratualistica internazionale. Noi riteniamo che sia molto importante che l'imprenditore acquisisca sempre più consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo di uno strumento quale il contratto fatto bene. I contratti non sono gli stessi in tutti i paesi del mondo. Poi abbiamo messo in piedi un'attività di consulenza diretta con i nostri esperti all'estero che può arrivare anche alla ricerca di partner che consente alle imprese di farsi fare un check up sulle proprie caratteristiche per capire se effettivamente è in grado di affrontare quei mercati. Inoltre è stato attivato un servizio di report di affidabilità economico-finanziaria e che hanno la finalità di consentire all'imprenditore, alla nostra impresa locale, di capire fino in fondo con chi si sta relazionando. Fra le iniziative ce n'è anche una sui rapporti con potenziali investitori svizzeri perché riteniamo che sia molto importante che le nostre imprese e le imprese locali crescano su questi temi che hanno sempre spaventato. L'investitore forte, il partner forte finanziariamente ha sempre spaventato la piccola impresa, tra l'altro familiare. Uno dei servizi tradizionali di Promo Firenze è quello offerto dall'ufficio finanziamenti. Noi chiamiamo così l'ufficio che dà tutte le informazioni necessarie a districarsi nell'ambito delle numerosissime norme e provvedimenti riguardanti la finanza agevolata e in molti casi è in grado anche di dare una mano per la produzione delle domande. Sono ancora disponibili i fondi sui bandi, ripartiamo in sicurezza, internazionalizzazione, cooperative e filiera corta. Informazioni e modulistica sono scaricabili dal sito della Camera di Commercio. Sul sito di Promo Firenze l'elenco di tutti i contributi nazionali e locali a fondo perduto per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Nuovo webinar gratuito online per venerdì 15 gennaio dalle 9 alle 13 sulla figura del responsabile tecnico gestione dei rifiuti. Iscrizione entro il 13 gennaio sul portale della Camera di Commercio. Esportare il vino italiano in Scandinavia è il titolo del webinar formativo gratuito organizzato da Promo Firenze per mercoledì 20 gennaio dalle 15 alle 16. Per iscriversi visitare il sito di Promo Firenze o scrivere a exporthubpromofirenze.it Per iscriversi visitare il sito della Camera di Commercio.it